Ciao a tutte, oggi un nuovo video, stavolta in collaborazione con il sito Sorgenta Natura. Prima di iniziare a parlare dei prodotti, vi faccio vedere il sito nel dettaglio. Allora, praticamente mi è arrivato tutto in questo scatolo, al suo interno ho trovato, vabbè, innanzitutto tantissimi campioncini, la quale ne ho provati ancora tre, una era un dopo barba, ovviamente non l'ho provato, io l'ho provato mio marito, e un balsamo dopo barba, si è trovato benissimo, però la confessione è vuota, l'ha buttata, quindi non so qual era, e io ho provato la crema mani e una crema per il corpo, mi sono trovata davvero benissimo, però anche le mie confezioni di campioncino vuoto sono andate disperse, non so dove, comunque. Poi nello scatolino ho trovato anche il catalogo, dove ci sono tantissimi prodotti illustrati con ogni prezzo, la cosa che mi ha colpito di più è che ci sono anche prodotti per le intolleranze, tipo c'è, perché è intollerante al lattosio, tipo Nutella, però senza latte, deliziosa crema da spalmare con cacao, senza latte e derivati, per merende, spuntini, pause e golose o solo per concedersi un momento di dolcezza. Il barattolo 295 grammi costa 6,30 euro. Le cose senza glutine, tipo qua i biscottini, comunque tanti 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 prodotti buoni, sono anche i cosmetici, comunque e tanto altro ancora. C'è davvero un sito ricco di ogni tipo di prodotto e come ho detto poc'anzi tutto biologico. A me il sito da recensire mi ha inviato un detersivo per le stoviglie, cioè l'ho scelto io, mi ho detto di scegliere fra, praticamente mi hanno chiesto di scegliere un prodotto fra alcuni che mi hanno elencato, io ho scelto di recensire il detersivo per le stoviglie per il semplice fatto che ultimamente sto rendendo davvero tanti tanti problemi con i detersivi delle stoviglie. Infatti nonostante io utilizzo sempre i guanti, o comunque quasi sempre i guanti, mi è spuntato qui con l'eczema. Quindi io ho detto di inviarmi questo per vedere se con questo l'eczema mi migliorava. Ed effettivamente devo dire che, oddio direi una balla a dire che l'eczema mi è passato usando questo detersivo, però lascia le mani molto 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 meno secche e disidratate rispetto agli altri detersivi. Non so se si può notare che le mani sono molto idratate, molto nutrite. E devo dire anche che ne basta davvero una boccina nella spugna e lava i piatti, tanti piatti, bene bene bene, ottimo anche nel eliminare gli odori tipo dell'uovo o del pesce. La confezione è da 500 ml, io ancora sinceramente dentro ce n'è più di metà, ma lo utilizzo da quasi ormai due settimane. Testato per nickel, cromo covalto, biodegradabile, senza profumi sintetici e coloranti. Per un pulito sicuro, biologico e naturale, che rispetta le mani e l'ambiente. Non so se potete leggere anche l'etichetta. I prodotti Green Natural sono realizzati con ingredienti biologici di origine naturale, sono efficaci, concentrati, termocompatibili e biodegradabili. Rappresentano la soluzione ideale per la massima pulizia e igiene di tutta la casa. E soprattutto poi dietro infatti c'è scritto modalità d'uso, prodotto concentrato, non eccedere nell'uso. E infatti io ripeto, mettendone proprio una goccina nella spugna, lavavo veramente tanti 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 piatti, facevo una schiuma bella morbida e soffice. Come ho detto prima, il profumo è molto gradevole e sinceramente ne sono rimasta molto colpita in maniera positiva. Infatti penso che lo acquisterò volentieri quando mi finirà questo. Anche se ripeto, continuando così, penso che sto flacone mi durerà due mesi, perché ancora ne mancherà circa così in due settimane, voglio dire. E io con il detersivo dei piatti ci lavo di tutto, certe volte ci lavo anche il bagno con il detersivo dei piatti, perché appunto avendo questi problemi alle mani non posso utilizzare detersivi troppo aggressivi. Vi invito a dare un'occhiata al sito, soprattutto perché ci sono veramente tantissimi prodotti che vanno dalla pulizia della casa all'igiene personale, i cosmetici, i cibi normali, i cibi per l'intolleranza ed è tutto, tutto, tutto biologico. Ora mi mando un grosso bacio, io ringrazio il sito Sorgente Natura per questa collaborazione. Ciao!